Ok, proviamoci. Ciao a tutti ragazzi, questo è Rotocex, un riappettro di questo nuovo video, ci siamo tornati qua su Clash Royale ancora una volta da soli. Questa è la seconda volta che ci provi in una serata, speriamo che questa sia la volta buona perché lo scorso video ho fatto un fail assurdo. Siamo a 2979 Coppe ragazzi, le ultime partite sono andate molto molto bene perché diciamo che ho avuto un po' di problemi visto che ho giocato appunto un sacchissimo stasera, ma ho avuto un bel po' di problemi, ero arrivato al mio record, cioè a 2984 trofei, quindi mi mancava una partita un po' come adesso. Ho provato a fare la partita della leggendaria, mi è andata veramente a merda sostanzialmente, ma ho avuto tanto culo. Io ho vinto praticamente 3-4 di fila, visto che spero che lo script sia dalla mia parte, devo provare assolutamente, assolutamente a salire di arena insieme. Abbassiamo drasticamente il volume, ok, vediamo un attimino cosa riusciamo a fare ragazzi. Purtroppo, 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 io so già che questo video non sa da fare, non arriverò mai praticamente in arena leggendaria, ma che cazzo, ecco, la scintilla ovviamente! Raga, ma di che stiamo parlando? Allora, vediamo un attimino se riusciamo a togliergli... Ok, questo è il momento buono per togliergli un po' di roba. Dobbiamo togliergli assolutamente questa scintilla, punta lì, punta lì, bravissima, bravissima, e questo gliel'abbiamo tolto alla grande. Ci siamo difesi veramente molto bene. Adesso lui non so se ha ancora l'isir per fermarmi lo sgherro, il mega sgherro, ma comunque lo dovrà utilizzare. A noi sta benissimo perché comunque entrambi le torre adesso dovrebbero riuscire a non subire troppissimi danni e possiamo fare partire la nostra combo. Sono concentratissimo ragazzi, non parlerò tantissimo, soprattutto se si andrà in over time. Ecco, già lui mi ha fatto partire la scintilla, come non detto. Ok. Vediamo un attimino se riusciamo a stopparlo, 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 stopparlo. Dai, 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 piazzata qui, piazzata qui, piazzata qui, piazzata qui. Ah! Ok, ok, la torre gliel'abbiamo presa. Lui ci ha fatto del male, però non sta difendendo la torre centrale. Questo è un grande errore. Mamma mia ragazzi, potremmo prendercela subito, potremmo prendercela subito. Porca miseria, raga, porca miseria, raga, mi sa che ce l'abbiamo fatta, mi sa che ce l'abbiamo fatta, mi sa che ce l'abbiamo fatta, mi sa che ce l'abbiamo fatta. Dai, 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 ti prego, facciamocelo subito così. Oddio sì, oddio sì, oddio sì, oddio sì, non ci credo, non ci credo, non ci credo, lo script di Clash Royale, lo script. 26, dimmi che ci bastano. 3005, 3005 ragazzi, leggendaria, arena leggendaria cazzo. Grande partita ragazzi, grande partita. Siamo in arena leggendaria. Vi scuserete se ovviamente non faccio altre partite, però ce l'abbiamo fatta, arena leggendaria 3005 coppe. Intanto io lascerei un bel mi piace ragazzi, perché da quando iniziate a giocare a Clash con i vostri consigli e con tanta, tanto, tanta delizione, ci siamo arrivati. Ce l'abbiamo fatta e adesso io potrei improvvisare... Potrei improvvisare... Oh cazzo, 10 euro tutta sta roba l'altro giorno ne ho sbe... Cioppa, 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 cioppa... Eh, scusate un attimo. Ragazzi, pagamento riuscito! Perché non mi dà nemmeno il tempo? Boscaiolo ho trovato ragazzi, e vabbè, ce lo abbiamo... ce lo siamo aperti il boscaiolo. Abbiamo preso anche un bel po' di cose... Diamo se riusciamo a aprire qualcosa con questa... Dai, apriamoci anche un baule magico. Festeggiamo quest'arrivo in leggendario ragazzi, e che cazzo? E festeggiamocelo quest'arrivo. Apriamocelo un baule magico, che non si sa mai che troviamo qualcosa di utile. Vediamo un po', ragazzi. E ovviamente vorrei fare qualche partita in più, però sapete com'è? Sono appena arrivati in leggendaria, me la voglio bullare un po', vorrei un po' aspettare onestamente. Però, però, vediamo se riusciamo a trovare... Raga... Niente, niente, percato, non riusciamo a trovare due leggendari, però una l'abbiamo trovata, che è il boscaiolo, e vabbè. Ma soprattutto, siamo arrivati a 3.500 trofei, io sono felicissimo, ragazzi. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, è durato pochissimo. Quanto cazzo è durato? La Sega è durato, sto video, sarà durato 5 minuti per combinazione. Però spero che vi sia piaciuto, perché ci ho messo veramente tantissimo impegno per arrivare in arena leggendaria. Ci siamo arrivati, adesso, ovviamente, dovrò capire se questo mazzo continuerà a workare, continuerà ad andare bene. Se dovrò portare delle migliorie, ovviamente dovrò uppare le carte. E soprattutto, spero di riuscire a portarmi nuovi, nuovi mazzi in questi giorni. Grazie per aver guardato questo video, fine alla fine, lasciate un bel mi piace per la riviera leggendaria. Noi ci vediamo al prossimo video! Woo!